La subsidenza è elevata, gli incendimenti sono elevati, sono inevitabili, le incendimenti differenziali. Queste sono due foto singoli di città del Messico dove negli anni 50 si è registrato il massimo valore di subsidenza mai inconservato. La subsidenza è elevata a 48 centimetri a parte. La parte si è passata di oltre 30 metri per scoprire queste incendimenti differenziali quando sono notevoli cremate le fratture.